Oggi l'Albania è un esempio non solo di rinascita della Chiesa, ma anche di pacifica convivenza tra le religioni. È un popolo coraggioso, lavoratore e che in pace cerca l'unità. Così Papa Francesco, all'udienza generale, ha parlato del suo viaggio in Albania del 21 settembre ai 50.000 fedeli riuniti in piazza San Pietro. Ha ricordato le vittime del regime ateo e disumano, sacerdoti cattolici, ma anche religiosi cristiani e musulmani, assassinati, torturati, incarcerati e deportati solo perché credevano in Dio. E ha spiegato che la memoria dei martiri che hanno resistito nella fede è garanzia per il destino dell'Albania, perché il loro sangue non è stato versato in vano, ma è un seme che porterà frutti di pace e di collaborazione fraterna. I martiri quindi non sono degli sconfitti, ma dei vincitori. In Albania oggi si pratica una pacifica e fruttuosa convivenza tra persone e comunità appartenenti a religioni diverse. È un dialogo autentico che rifugge dal relativismo e tiene conto dell'identità di ciascuno. Al termine dell'udienza il Papa ha pregato con i fedeli la Vergine Maria per le vittime dell'epidemia di Ebola, che sta colpendo l'Africa, auspicando che non venga meno l'aiuto della comunità internazionale per alleviare le sofferenze dei malati.